Allora l'aiuto potrebbe essere se non viene a pesare nelle tasche dei commercianti che già stanno patendo e stanno patendo tanto, quindi tutto ciò che può essere un aiuto gratuito, benvenga, volentieri, lo facciamo, partecipiamo. Secondo me bisognerebbe anche incentivare di più la presenza delle persone in Via Italia, farle tornare, agevolare, per esempio noi avevamo già proposto che è stato fatto l'anno scorso i parcheggi gratuiti sotto Natale che invece quest'anno non sono stati rifatti. E quindi non lo so, trovare un qualcosa che aiuti di più la gente a ritornare a vivere in un certo modo il centro di Biella che poi alla fine è stupendo, quindi è sempre stato il salotto di Biella, riportiamolo a essere quello che era. Dopo aver ascoltato dall'assessore al commercio del comune di Biella le nuove misure che saranno attuate sul fronte proprio delle attività commerciali, siamo scesi in Via Italia per capire qual è l'umore dei commercianti. In molti e praticamente tutti hanno sottolineato di non essere a conoscenza di quanto sta attuando il comune, andiamo a vedere. Ma allora, non sono tanto al corrente perché non sono riuscito ad andare all'appuntamento, spero che esca sul giornale un articolo, che lo spieghi bene, poi capirò come funziona. Non so se le televisioni ne hanno già parlato, voi ne avete già parlato? Ci saranno dei corsi di digitalizzazione, insomma della formazione per affiancare i commercianti, ma la situazione adesso è un po' critica. Eh sì, la situazione è critica e non so se i corsi basteranno a risolvere la situazione, comunque accettiamo le buone idee e se è una buona idea sicuramente avrà il nostro appoggio. Quindi abbiamo sentito l'assessore al commercio che ha annunciato una serie di misure, lei ne ha conoscenza? In sincerità no, per ora non sono ancora stato contattato e reso partecipe di queste iniziative. Ecco, la situazione in questo momento del commercio com'è in via Italia? Diciamo che con l'evento del Natale, secondo me, c'è stato movimento e lavoro, cosa che è precipitata immediatamente nel mese di gennaio e queste nuove restrizioni ci hanno abbassato il numero di clienti notevolmente. Allora, intanto lei è esordito dicendo anche in difficoltà, io non mi metto di sicuro a piangere. Assolutamente no, che so che è un momento molto difficile per tutti, diciamo, teniamo duro. Allora, abbiamo annunciato, abbiamo sentito alcune misure annunciate dall'assessore al commercio, alcuni però hanno detto di non esserne a conoscenza. Sinceramente nemmeno io, però non escludo che è la mia mancanza, che non voglio mettere in difficoltà nessuno. Io sono nuova qua a Biella, mi sento bene e teniamo duro il momento difficile, non lo so. Allora, tra l'altro durante le feste probabilmente c'è stato un incremento, adesso forse è di nuovo un po' fermo. Sì, esattamente, un attimino di rallentamento, però speriamo in bene. Adesso siamo di nuovo un pochino fermi, non so se è dovuto a queste restrizioni, Green Pass e via dicendo, la gente in giro è molto poca. I saldi sono iniziati molto presto e questo secondo me non è così a favore del commerciante, perché ovviamente se si cominciano i saldi e i primi di gennaio la stagione, voglio dire, non è delle migliori. Però siamo sicuramente speranzose e speriamo che la situazione migliori.